Se dà qualche consiglio sulla bruttezza, ce l'abbiamo, noi abbiamo tutto, quindi abbiamo Roberto De Fazio, consigli sulla bruttezza. Scusate, perché avete detto proprio a me consigli sulla bruttezza? Scusate, ma perché sono brutto? Scusate, vediamo gli infami, sono brutto? No, no, quindi è un pubblico dei buciardi stasera, proprio o buciardi o clienti falliti di oculisti, perché signora io sono brutto, lo dico, lo affermo, sono brutto, ma non è che sono brutto adesso, ero brutto vent'anni fa, ero brutto da bambino, anzi sono l'unico caso a aver fatto schifo pure da spermatozoo. Era una cosa tremenda, appena mia madre è rimasta incinta, è andata dal ginecologo, ha detto a mio padre, andiamo dal ginecologo, sono andati lì, belli, il ginecologo l'ha vista, ha detto, signora, c'è il lettino, si distenda, mia madre ha detto, dottore, ho già fatto. Ma chi ha capito, signora, si distenda, devo fare l'ecografia, ha preso questo macchinario, ha acceso il monitor, ha preso sta cosa, l'ha passata sulla panza di mia madre, pzzzzzzzz, pa, sono apparso io. Mia madre ha guardato, dottore, cambi canale, questi sono i gremlins. Ma come, ha detto mia moglie, come i gremlins? Ha guardato bene, ti aspetto che ha inforco l'occhialo, ha inforcato l'occhialo, ha guardato e ha detto, scusi, dottore, scusi, ma è ovvio. Questo è Gollum del signore degli anelli, manda avanti il DVD che non l'ho visto. E niente, allora mia madre, a un certo punto con me, nella pancia che davo calci, pugni, ha cominciato a avere le doglie, io volevo uscire, ta, ta, ta. Hanno chiamato mio padre, mio padre non si trovava, era scappato, appena aveva saputo la notizia, gli era preso un colpo, ma mia madre, mia madre voleva tirarmi fuori, e allora è andata di corsa, al pronto soccorso, è entrata, io ho tirato fuori la capoccia, mia madre l'ha vista. E ha iniziato a urlare, infermiera, infermier, me venga da una mano, rimettiamo dentro sei o sette mesi che sta giusta. Niente, io volevo nascere, volevo tirare fuori tutto me stesso, e infatti a un certo punto, mentre stavo là, pa, sono uscito. L'ostetrica mi ha visto volare e ha detto, oh, brutto questo, eh. L'ha preso al volo il ginecologo, che era un obiettore di coscienza, mi ha visto e ha detto, oh. Cazzo, mi sa che l'ha borto ogni tanto, poi mi ha dato un calcio. Niente, ma alla fine sono nato, ho visto la luce, è bello, hanno trovato mio padre, l'hanno chiamato, all'epoca non c'erano i cellulari. Ho cominciato a cercarlo, dice, corri, corri, è nato tuo figlio, è nato tuo figlio, è nato tuo figlio. E non mi pare detto, sì, però giurate che non me lo fate bacià. E poi è entrato in clinica, è entrato, è salito terzo piano, reparto neonatologia, è entrato, c'erano tante stanze, poi ha visto la porta. C'era l'aglio, il crocifisso ha detto, il mostro deve stare qua. È entrato e c'ero io. Ero lì dentro questo lettino carino, ero lì dentro questo, ero lì. Diciamo, a un certo punto mia madre ha guardato mio padre, ha guardato il lettino e ha detto, oh, guarda un po', assomiglia tutta a te. Mi padre ha detto, no, guarda meglio, assomiglia tutta a te. Mi madre ha detto, no, guarda bene, assomiglia tutta a te. Mi padre ha detto, no, guarda meglio, assomiglia tutta a te. Mi madre ha detto, ma guarda che assomiglia a te. Mi padre ha detto, no, assomiglia tutta all'idraulico. No, no. Mi madre riguardante ha detto, qual'idraulico? Assomiglia tutta al cesso. È identico. Poi, alla fine, mia madre ha guardato mio padre e ha detto, senti, fai il tuo dovere da papà. Dice, che io lavoro, porto. No, fai il tuo dovere di papà. Dice, ma che faccio io? Cioè, ho il figlio. No, fai il tuo dovere di papà. L'ha preso, mi ha messo dentro una busta della monnezza, ha dato a mio padre e ha detto, vai, gettalo via. Come gettalo via? Ha detto mio padre. Ma è mio figlio! È mio figlio! È mio! Vado, è andato e mi ha gettato dentro un cassonetto, ma siccome era una notte senza luna e lui era pure mezzo ciecato, ha lisciato il cassonetto e io sono caduto lì, a terra. Di lì a poco è passata una vecchietta, una dolce vecchietta, mi ha visto e ha detto, oddio, oddio che cosa immonda, oddio che cosa immane, oh mondo immondo. Mi ha preso e ha detto, adesso la monnezza la buttano fuori dal cassonetto e mi ha messo dentro. Ho capito che la mia vita non sarebbe stata rose e fiori, ma d'altronde in tutto non è stata una grande in tutto, anche nelle donne, insomma, uno come me, le donne. Io sono stato sempre attirato dalle donne, me lo ricordo, anzi mi ricordo la prima volta che mi sono innamorato perché l'amore è una cosa fantastica. Voi ve lo ricordate la prima volta che vi siete innamorati? Ve lo ricordate? Serata dei sfigati proprio, sono andati a prenderli e l'hanno portato. Dice, che fate stasera? Ah no, un cazzo, portiamo l'Italia in musica. L'hanno presi qua fa. L'amore, che bellissimo, lo ricordo la prima volta che mi sono innamorato. Della mia compagna che mi guardava con occhio languido, sì. Dopo tre giorni mi si è accorto che era di vetro. Poi mi sono innamorato di una bella, una mora alta, teutonica. Lei mi chiedeva la prova d'amore. Io dicevo, ma dai. Allora gliela richiedevo, io la provo d'amore, ma lei mi diceva no. Allora gliela richiedevo, ma lei diceva no, no e no. Io gliela richiedevo, ma lei diceva no, ma tu insisti Robby, vedrai, cambierò, cambierò, cambierò. E cambiata, mo' si chiama Ugo e fa il commercialista. Ma il grave è che da quando si chiama Ugo gli vado a sangue, proprio mi insegue. Via qua Robby, via qua, via qua. Poi ho capito che c'era una donna che si era innamorata di me perché voi donne siete fantastiche, siete stupende. Voi donne cambiate quando vi innamorate. Mi fate le mesh, vi mettete i vestiti lunghi, vi mettete le calze autoreggenti. La mia si faceva pure la barba. Cioè non è che era proprio meravigliosa, nel senso che aveva qualche piccolo, piccolissimo difetto fisico. Ernaso ha pagato tre volte il condone di Lizio. Era una cosa mostruosa. Una volta stava la fermata dell'autobus, ha cominciato a piove, sono arrivati tre ragazzini a detto oh, sapete che è arrivata la raggi, hanno messa la tettoia, bene, si sono messi sotto. Le ascelle, le ascelle, le ascelle sudava, sudava talmente tanto che l'Enel stava studiando il modo di installare la centrale idroelettrica sotto le sue ascelle, era alta un metro e venti. Tutta pelata, la chiamavano la Mark Tyson de Dragona. Quando faceva roba, lei non urlava, staccava i ricchi a mozzi. Era una cosa tremenda. D'altronde, quando l'ho vista, ho capito una grande verità. E con questa concludo. L'amore è cieco, ma nel mio caso è pure un po' stronzo. Grazie, ciao!